Riguardo il comunicato di Napolitano vorrei che glielo chiedeste a lui in modo tale da riuscire a capire cosa aveva intenzione di dire con quel comunicato, perché sinceramente non l'abbiamo capito. No, lo vorremmo sapere da lui, come mai? O ieri sera è uscito con questo comunicato, proprio ieri sera.